In questa edizione del Tg8. Dall'unidì 27 maggio riparte il Tg8 informazioni. Castelvetrano, intestazione fittizia di beni, due condanne per i fratelli Firenze. Oltre 615 kg di tonno rosso, proveniente da Mazzara del Vallo, viene sequestrato a Bari. Rifiuti, emergenza organico ma anche molta inciviltà. Assessore Agate, sposteremo quei cassonetti da Piazza Mocarta. Questa sera al Cineteatro Rivoli Cauro di Francesco Randazzo abbiamo ascoltato il regista Giovanni Carta. Ericen, in stato di agitazione, 100 lavoratori comunali, minacciano lo sciopero. Hashtag Mazzara si può, compostiere di comunità e compostaggio domestico per risolvere il problema dell'umido organico. Mazzara, per i disabili gravi garantita l'assistenza a casa. Il Movimento per la Vita di Mazzara del Vallo organizza una pedalata il 26 maggio. Il turismo in provincia di Trapani. Ecco i comuni che vanno bene e quelli messi male. I fratelli gemelli Giovanni e Massimiliano Firenze, entrambi di 46 anni, sono stati condannati dal Tribunale di Marsala per uno dei casi di intestazione fittizia di quote societarie e beni aziendali e assolti per gli altri due. Il Tribunale, così come riporta Antonio Pizzo in un articolo del giornale di Sicilia in Edicola, ha inflitto due anni e mezzo di carcere a Giovanni Firenze e due anni con pena sospesa a Massimiliano Firenze. Ai due imputati non è stata contestata l'aggravante di aver favorito la mafia. La Guardia Costiera ha sequestrato 615 kg di tono rosso a Bari. Il tono rosso, considerato di pregio e commercializzato a prezzi che consentono l'auti guadagni, è stato sequestrato ad un automezzo proveniente dalla Sicilia, presso un centro di smistamento cittadino, perché privo del certificato di cattura che ne attestasse la provenienza. Il trasportatore ha inizialmente esibito un documento che attestava la pesca da parte di un noto peschereccio di Mazzara del Vallo, ma i controlli incrociati effettuati sui sistemi di monitoraggio impiegati dal corpo delle Capitanerie di Porto hanno rilevato la non rispondenza del tono con quanto dichiarato nel documento esibito. Dopo la verifica da parte delle autorità sanitarie, tutto il pesce sequestrato è stato devoluto in beneficenza. Esiste la necessità di avviare un progetto di medio e lungo termine per creare compostiere di comunità e favorire il compostaggio domestico. In una foto scattata ieri e postata su Facebook da un cittadino, il professor Luigi Tumbarello, in merito ad alcuni cassonetti, si può vedere come sono posti da mesi in bella mostra in piazza Mocarta, vicino al simbolo della città Arco Normanno e all'ingresso dell'ex Alambra, sede dell'Istituto Euroarabo. Nella foto pubblicata si evidenziava lo stato indecente di quei cassonetti a seguito dell'incivile conferimento di rifiuti da parte dei cittadini. Insomma, non è stato uno spettacolo decoroso, offerto a quanti sono transitati in quella zona centrale della città. Questo è comunque niente se pensiamo ai numerosi casi di inciviltà dimostrati dall'abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere nelle periferie di Mazzara. A seguito di quella segnalazione, già alle prime ore del mattino di ieri, l'amministrazione comunale aveva provveduto a far ripulire l'aria in questione. Purtroppo, dopo qualche ora, qualche incivile ha pensato bene di disfarsi di alcuni cartoni proprio in quel luogo. Sulla questione si è espressa Caterina Agate, che ha le deleghe al bilancio. Programmazione, patrimonio e società partecipate. Già fin dalle ore dal nostro insediamento, ha affermato, ci siamo trovati a far fronte a questa emergenza rifiuti per trovare soluzioni immediate. È normale che vadano ricercate soluzioni anche nel medio e lungo termine, che possono arrecare concreti benefici alla città. Nel caso particolare dei cassonetti in piazza Mocarta, ha sottolineato l'assessore Agate, vedremo prestissimo di trovare una nuova collocazione. Il fatto che dopo qualche ora dalla pulizia ci siano già dei cartoni, questo dimostra il grado di civiltà con il quale ci confrontiamo. Ad ogni modo, toglieremo la possibilità che alcune situazioni possano ripetersi. Un documento con 13 punti e richieste firmato da 100 lavoratori del Comune di Eric è stato inviato al sindaco Daniela Toscano, alla Giunta e al Consiglio Comunale, ai dirigenti del Comune e al Segretario Generale. In pratica, i lavoratori ufficializzano il loro stato di agitazione e chiedono la possibilità di confrontarsi entro 15 giorni in quanto le richieste finora fatte sono state totalmente ignorate. I lavoratori, in pratica, se entro due settimane non dovessero avere risposta, potrebbero continuare la loro protesta passando di fatto a uno sciopero collettivo con il blocco dei servizi comunali. La data fissata entro la quale i lavoratori attendono di poter interloquire con l'amministrazione è il 2 giugno prossimo. I cittadini dei comuni aderenti al distretto socio-sanitario 53, Mazzara, Salemi, Gimeline e Vita, possono presentare istanza presso gli uffici di protocollo dei comuni del distretto per l'attivazione di un servizio riservato ai disabili gravissimi, non autosufficienti, in condizione di dipendenza vitale, con necessità di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessivi derivanti dalle condizioni psicofisiche. In particolare, il servizio è rivolto a coloro che sono in possesso della certificazione inerente alla legge 104. Il termine per la presentazione delle domande era stato fissato per lo scorso 23 marzo, ma questa data non è perentoria e pertanto l'ufficio accetterà ancora altre eventuali richieste. Pubblicato all'albo pretorio del portale istituzionale del comune di Mazzara, l'avviso e il modello per la presentazione delle istanze e i fini dell'individuazione delle forme di assistenza da erogare in loro favore attraverso i servizi territoriali. Era stato previsto al primo turno delle amministrative e al vallottaggio, che una volta eletto il nuovo sindaco di Mazzara del Vallo, si sarebbe immediatamente trovato a far fronte a diverse questioni, fra queste anche quella del miglioramento della raccolta differenziata, che nel territorio mazzarese è stata intrapresa soltanto la scorsa estate dalla precedente amministrazione Cristaldi. Purtroppo, proprio nel corso della campagna elettorale, è sorto il problema del conferimento dell'umido seguito del sequestro della Sicilfert, azienda di trattamento dei rifiuti organici, e alla chiusura dell'impianto di Belpasso, gestito dalla Raco SRL. In altre parole, è venuta a meno un'importante capacità di smaltimento dal momento che trattava gli scarti organici da quasi un terzo dell'isola. Così, da circa un mese, nel territorio mazzarese si assiste a frequenti sospensioni della raccolta dell'umido da parte del Lati, con capofila la Tech SRL, che gestisce la raccolta di rifiuti a seguito di un contratto quinquennale di circa 23 milioni di euro. Il problema, che ha quindi cause esterne, del quale si è occupato il dottor Antonio Lopresti, commissario straordinario del Comune inseriatosi dopo le dimissioni dell'ex sindaco Nicola Cristaldi, è stato ereditato pertanto dal neoeletto sindaco Salvatore Quinci. Salvatore Quinci è stato costretto lo scorso 18 maggio a ordinare la sospensione per la sola giornata di lunedì 20 maggio del servizio di raccolta dell'umido. Successivamente, il 22 maggio, sempre il sindaco Quinci, attraverso una nota ha annunciato sia la ripresa della raccolta dell'umido a partire da venerdì 24 maggio, che una soluzione per smaltire parte dei rifiuti organici accumulati. Ovviamente si spera anche per le ragioni adotte dallo stesso sindaco che questa soluzione, cioè il trasporto delle frazioni organiche fuori dalla Sicilia, sia soltanto temporanea e che venga trovata una soluzione. Il 23 maggio è una data importante per noi siciliani e non solo. È una data che ricorre nella nostra memoria. E con questo spettacolo noi abbiamo voluto raccontare una tragedia, ma dal punto di vista delle persone che sono rimaste, che cosa è successo dopo quel 23 maggio, dopo quella bomba, dopo quel boato, come si può continuare a vivere, come si può continuare a sperare, cosa si può augurare per noi e per i nostri figli, di che colore possiamo colorare la speranza. Spero che in questo nostro spettacolo possiamo dare delle tracce e possiamo dare delle informazioni per essere sempre più responsabili, cittadini civili rispetto a un problema che ha sconvolto le nostre anime. Quindi il 23 maggio qui a Mazzara del Vallo l'appuntamento è alle 21.30 al Teatro Rivoli con lo spettacolo Cauro, con Piero Indelicato, Luana Rondinelli, Gerri Accardo e vi aspettiamo tutti per ricordare insieme, per continuare a sperare insieme. La prima seduta del neoeletto Consiglio Comunale di Mazzara del Vallo si terrava venerdì 31 maggio con inizio alle ore 10 nell'aula consigliare di Via Carmine. Il presidente del Consiglio Comunale uscente, Vito Cancitano, dopo la proclamazione degli eletti, notificata ieri dall'Ufficio Centrale Elettorale, ha proceduto a convocare la prima adunanza del Consiglio con all'ordine del giorno il giuramento e l'insediamento dei consiglieri comunali neoeletti, la verifica delle condizioni di elegibilità e candidabilità, la convalida dei consiglieri comunali eletti per il mandato amministrativo 2019-2024, eventuali surroghe ed adempimenti conseguenziali, eventuale incompatibilità dei consiglieri comunali eletti per il mandato amministrativo 2019-2024, elezione del Presidente del Consiglio, elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale e il giuramento del Sindaco. Il Presidente del Consiglio Comunale uscente, Vito Cancitano, ha effettuato la convocazione della prima adunanza, che sarà da lui stesso preseduta nella qualità di consigliere comunale neoeletto più votato. Il Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Nascente di Mazzara del Vallo hanno organizzato l'evento 25esima pedalata per la vita, una gioiosa manifestazione che si ripropone già da diversi anni e che coinvolge giovani e meno giovani, famiglie e gruppi di amici. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Avis di Mazzara, con il Masci, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, e la Diocesi di Mazzara del Vallo, che offrono il supporto logistico per lo svolgimento della pedalata. L'evento si svolgerà domenica 26 maggio 2019, con partenza da Piazza della Repubblica, alle ore 8.30, per poi raggiungere il punto di sosta Ranch Nuove Terre, incontrà da Santa Maria, dove si offrirà ai partecipanti un momento di animazione e ristoro, poi il rientro in città è previsto per le ore 12.30. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al banchetto del Movimento per la Vita in Piazza della Repubblica sotto i portici del seminario Vescovile nelle giornate di venerdì 24 dalle ore 17.30 alle 20 e sabato 25 maggio dalle 17.30 alle ore 23. Come ogni anno saranno sorteggiati diversi premi tra tutti i partecipanti. La pedalata per la vita vuole richiamare l'attenzione sul tema del sostegno e della promozione del valore della vita nascente. Ambito privilegiato di impegno per il Movimento per la Vita e per il Centro di Aiuto alla Vita di Mazzara del Vallo. Il comparto turistico in provincia di Trapani tiene. Nonostante la crisi dell'aeroporto di Trapani-Birgi, i dati sull'affluenza in provincia indicano una discreta riduzione di presenze e arrivi rispetto al 2017, ma in leggero aumento rispetto agli anni d'oro del Vincenzo Florio. Nel complesso, gli arrivi in provincia di Trapani del 2018 sono diminuiti del 3,6% rispetto al 2017, mentre le presenze sono diminuite dell'1,15%. Ci si aspettava di peggio, certamente, vista la crisi di passeggeri dell'aeroporto di Trapani-Birgi. Il dato provinciale però non è compatto. Ci sono infatti quei comuni che hanno perso una consistente quota di visitatori e quei comuni che hanno avuto un boom di visite nel 2018. Alcune città soffrono la crisi di Birgi, altre no, e registrano anzi un aumento dei visitatori. Tra i grandi centri spicca il boom di Mazzara del Vallo, che traina il comparto in termini di percentuali con altri piccoli centri. La città del Satiro ha registrato il più 28,2% di arrivi e più 56,86% di presenze nel 2018 rispetto al 2017. Circa 10.000 arrivi e 60.000 presenze in più. La permanenza media di Mazzara è in linea con la media provinciale del 3,6%. Chi va male sono Trapani ed Erice. Trapani ha registrato il meno 16,8% di arrivi e meno 19,62% di presenze, perdendo 15.000 arrivi e 40.000 presenze in un anno. La permanenza media è poi la più bassa, 2,4 giorni. Erice nel 2018 ha perso il 16,9% di arrivi e il 12,46% di presenze. Marsala tiene botta, anche se ha perso il 4,8% di arrivi e il 2,97% di presenze. Tra i comuni turistici fa male anche Favignana. La farfalla dell'Egadi ha registrato il 10,7% di arrivi in meno e il meno 7,28% di presenze. Perde anche la meta più gettonata della provincia di Trapani, e cioè San Vito, con il meno 6,5% di arrivi e il meno 9,63% di presenze. Dato diverso per Pantelleria. L'isola vanta la permanenza media maggiore in provincia. Registra però un aumento del 6% di arrivi e una riduzione del 16,78% delle presenze. Chiude il quadro dei maggiori centri turistici Castelvetrano, che è la seconda città più visitata in provincia dopo San Vito. Registra nel 2018 un più virgola 6% di arrivi e meno 3,94% di presenze. Questi dati indicano quindi una forte sofferenza per le principali mete turistiche della provincia di Trapani e per le città vicine all'aeroporto di Trapani-Birgi. Non si può non prendere di petto una questione decisiva per il futuro di Mazzara dopo un'affannosa campagna elettorale. È sfida appassionata che si ha di fronte e l'ora di rompere quindi il silenzio e di uscire dall'immobilità. Bisognerebbe dare una risposta ad una funzione pubblica di grande utilità per la nostra collettività. Sfida che coinvolge aspetti tecnologici, sociali, culturali ed economici. Non possono e non devono continuare a rimanere sconosciuti 60.000 chilometri di cavi sottomarini in fibra ottica di Mazzara del Vallo per la comunicazione internazionale. A poca distanza dalla costa di Tonarella, dalla piattaforma sottomarina, partono nel Mediterraneo 10 autostrade sottomarine di fibra ottica per la Tunisia, Libia, Qatar in Africa e attraverso lo stretto di Gibraltar per le Americhe e da Suez per Asia e Australia e Italia, Svizzera e Germania per l'Europa. Costruite dal 2007 al 2016 dimostrano senza dubbio che Mazzara del Vallo ha ruolo inscindibile nel mondo digitale per la posizione geografica, non più solo in campo energetico del gas algerino. Dieci cavi sottomarini di fibra ottica producono ricchezza enorme al colosso costruttore proprietario Sparkle Telecom e ai gestori Google, Facebook e altri spiega il dossier reti dell'Istituto di Ricerca di Il 2000. Finora la città di Mazzara non ci ha guadagnato nulla, eppure le reti in fibra ottica prima di raggiungere il mare di Tonarella hanno attraversato sottotraccia strade di proprietà comunale, puntualizza il presidente avvocato Nicolo Vella del Il 2000. La città con intelligenza e consapevolezza deve giocare alla partita ancora aperta del futuro di base logistica e di sostanziale incubatrice di sviluppo delle comunicazioni internazionali. Oggi è necessario, nell'interesse dei cittadini, avviare un metodo negoziabile con la Sparkle mediante forme di confronto, discussione e anche di reciproco condizionamento, come rendi conto sulla presenza delle reti in fibra ottica sul territorio e sul mare. Occorre tentare ogni sforzo per raggiungere questo obiettivo, per stipulare un proficuo accordo indispensabile che l'azione del Comune di Mazzara abbia il supporto tecnico di consulenze e competenze. Dall'accordo con la Sparkle potrebbe sorgere un centro di eccellenza per la formazione tecnologica dei giovani, intelligenze creative, volontà imprenditoriale, start-up con radicamento nella società mazzarese, una nuova curva di sviluppo nella storia di Mazzara, portando il respiro del mondo dell'innovazione digitale con grandi benefici.